Azione! Che cos'hai che vuoi da me? Io ti amo. Non credevo di poterti amare così. Ma ti amo così. Grazie, eh. Sei un'aspirazione. Veramente non solo sei bella, ma sei brava e sei attenta. Non ci dico a quinta ragazza bella l'indieppina. Ma voi sapete la propena nei soldi che la papà vi dà? Non vuoi credere che non dà una colpa. No! Non capisci, no! Passi i soldi a chi me ne dì. Stai a fare la poveraccia. A me chi mi aiuta. A Gena. Penuncia Luigi Scaglione. Marita. Chi vuole? Fa' attenzione. E non ti ho detto ancora niente. Amore è una parola importante. Per me amore è una parola che non sento così più.